benvenuti a questa nuova puntata di starbreak dedicata al cielo d'inverno si avvicina al natale con le fulgide stelle che tutti conosciamo in questo periodo dell'anno abbiamo nel cielo occidentale ancora ben visibili le stelle dell'autunno quindi con il grande gruppo Pegaso con il suo quadrato perfetto la costellazione di Andromeda e più in alto il Perseo mentre nel cielo orientale ormai sempre più dominanti le splendide stelle invernali contraddistinte soprattutto dalla grande costellazione di Orione vi ricordo sempre che ha la forma più o meno di una moca del caffè quindi con quattro stelle brillantissime agli angoli in particolare quella in alto a sinistra e quella in basso a destra cioè Betelgeuse e Riegel e le tre inconfondibili delle stelle della cintura esattamente al centro ecco seguendo queste tre stelle la direzione che ci indicano verso il basso incontriamo la stella più luminosa del cielo cioè Sirio che diventerà sempre meglio visibile nelle prossime settimane seguendo invece questa linea verso l'alto andiamo a trovare un'altra stella brillante di colore rosso che è al Debaran nella costellazione del Toro la vedremo al vertice di una V questa V è l'ammasso stellare delle Iadi nel cuore della costellazione del Toro poco oltre le Iadi inconfondibile un grappolo di stelle se ne vengono circa 6-7 tutte raggruppate a occhio nudo è il bellissimo ammasso delle Pleiadi il gioiello della costellazione del Toro mentre le altre stelle invernali importanti sono Castore Polluce dei gemelli brillantissime che possono essere trovate seguendo proprio la diagonale delle due stelle più brillanti di Orione cioè Riegel e Betelgeuse andando verso l'alto e tra i gemelli e Sirio un'altra stella brillante Procione nella costellazione del cane minore considerando che Sirio è la stella più brillante del cane maggiore verrebbe da chiedersi perché così tanti cani mitologici in cielo beh pensiamo che Orione era un cacciatore ogni cacciatore un paio di cani se li porta nelle battute di caccia però attenzione perché in realtà la costellazione dei cani da caccia esiste e non è qui è in un'altra zona del cielo vicino all'orsa maggiore oltre a queste stelle brillanti che abbiamo elencato quindi le stelle di Orione Aldebaran nel Toro Sirio Procione e i gemelli altissimo nel cielo c'è un pentagolo di stelle esattamente sopra le nostre teste in prima serata il pentagono dell'Auriga con una brillantissima stella gialla capella che ha una particolarità in cielo ha la stessa latitudine che l'ecqua sulla terra quindi ogni notte questa stella passa esattamente sulle stelle delle chiesi oltre alle stelle però vanno sottolineati i bellissimi oggetti del cielo invernale quindi poco sotto la centura la magnifica nebulosa di Orione fucina di stelle delle pleiadi e delle iadi a massi stellari spettacolari abbiamo già parlato poi sulla punta di una delle due corna del Toro c'è la nebulosa M1 la nebulosa del granchio il resto di una stella esplosa nel 1054 quindi nel cielo invernale abbiamo veramente moltissimi oggetti straordinari e tra i più famosi del cielo da osservare e fotografare ricordo anche la celeberrima nebulosa testa di cavallo prossima proprio a una delle stelle della cintura di Orione e infine i pianeti per quanto riguarda i pianeti noi abbiamo visibili subito dopo il tramonto Venere e Saturno visibili per un po' più di ore invece c'è il pianeta Giove dicembre è un mese favorevole alle osservazioni per la limpidezza del cielo quando naturalmente è sereno occorre ovviamente resistere al freddo però il vantaggio in dicembre che si può osservare già dalle 5 del pomeriggio quindi sono molte le ore a disposizione osservando presto naturalmente vedremo le stelle in un'altra posizione potremo ancora ammirare in tutta la loro pienezza le stelle dell'autunno che domineranno il cielo del tardo pomeriggio nella prima serata dominati soprattutto poi come oggetti dalla galassia di Andromeda che ricordo è l'oggetto più lontano dell'universo visibile a occhio nudo 3 milioni di anni di luce da noi un mostro si annida al centro di tutte le galassie un buco nero super massiccio quindi un oggetto invisibile che ingoia tutto che ha milioni o addirittura miliardi di volte la massa del sole anche nel centro della nostra Via Lattea si nasconde un oggetto di questo tipo e il sole con i suoi pianeti con noi stessi ruota da sempre attorno a questo mostro che ingurgita tutto ma in realtà adesso ci fa un favore perché mantiene in equilibrio la nostra Via Lattea di questo argomento parlerà venerdì 3 dicembre Alberto Sesana nella replica della sua fortunatissima conferenza tenuta due settimane fa al Planetario è stata necessaria appunto una replica quindi non mancate il 3 dicembre con Alberto Sesana Grazie! Grazie! Grazie a tutti.